Enrico Cavaccio Enrico Cavaccio Potremmo fare o il pezzino ufficiale Casamassimesi a informarci su come lo facevano oppure Casamassimesi No, 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 su digitale Insulto è sempre quello Quello che vedo io è la Massa Però insulto è sempre quello Casamassimesi C'era chi lo faceva la Samichie Ma qual'era quella più buona? Però comunque Quello più usato diciamo Più noto anche Ma la Samichie FM Noi facciamo sempre la solita quadriglia Facciamo sempre questa caccia di quadriglia Ma è bella da quasi Si ma tutto Si però ho capito Con quelle maschere è proprio la scena E' funzionale Anche se è maschere Si 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 C'è il maschio prende il nuovo giuro E' quello il festivo La maschere è più che un masco Per parlare con una donna Si è detto La maschere Secondo me queste cose Bisavate intendere a Vito 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 Vito